Ecco come funziona il Distronic Plus. In caso di traffico intenso, il veicolo viene frenato automaticamente, a seconda della situazione e, se necessario, arrestato. Se necessaria una forte frenata, si attiva un segnale acustico ed una spia per segnalare la necessità di azionare il freno. Non appena il traffico lo consente, il Distronic Plus accelera automaticamente fino a raggiungere la velocità impostata, evitando al guidatore le faticose manovre di routine di stop and go e incolonamento.